Il dipinto raffigura l'ingresso trionfale del Papa Medici, Leone X, nella sua città natale, avvenuto il 30 novembre 1515. Il corteo papale sta attraversando Piazza della Signoria tra due ali di folla, mentre i trombettieri e i pifferi suonano dalle finestre del Palazzo della Signoria, i bombardieri del palazzo, davanti a San Pierscheraggio, sparano a salve in segno di festa. Il dipinto raffigura l'ingresso trionfale della Signoria, i bombardieri del Palazzo in segno della Signoria, i bombardieri del Palazzo del Palazzo,porna che任 preferisce Grazie a tutti